Cosa è successo? Hai detto che oggi non saresti venuto Allora, Ugo, dov'è che andiamo? Beirut Spera! Spera, Luca! Spera! Nellì 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 Luca! Tu, uno comuco piazza, non lo uccidi a cedimento! Tu, uno comuco piazza, non lo deve neanche toccare! Tu, uno comuco piazza, non lo deve neanche sfiorare! Tu, uno comuco piazza, il cappello ti deve levare! Il cappello ti deve levare! Il cappello! Grazie a tutti.